Powell Adamovitz, nato a Danzica, 54 anni, negli anni del liceo aderisce al movimento di Solidarnosc, avvocato, sposato con due figli, prorettore dell'Università di Danzica. Powell, cattolico sindaco, amato della sua città dal 1998, era un esponente di piattaforma civica, partito di opposizione all'attuale governo nazionalista polacco. Anche lui è stato assassinato in occasione di una manifestazione benefica. Era un europeista convinto, era solito ripetere, Danzica è un porto, sarà sempre un rifugio per chi arriva dal mare. La diversità, diceva, è una ricchezza, non è un problema. Ancora, una vita egoistica non dà nulla, solo l'incontro con altre culture, con la diversità, ci rende più ricchi. Adamovitz Powell è un martire di un'Europa che non annulla le diversità, ma le valorizza. Grazie. Grazie.